Officina abusiva scoperta a Verbania, multa per il titolare, si tratta di un cinquantenne che esercitava in un garage in centro città. Furto alle scuole di Nebbiuno, robati 11 computer dall'aula di informatica, indagano i carabinieri di Arona. Prima sentenza nell'ambito degli imputati dell'operazione Pepe Amaro, che ha portato alla luce un giro di spaccio a Verbania. Canoni idrici, reschigna, i 9 milioni di euro sono quelli della transazione tra provincia e giunta Chiamparino. Si corre domenica a Verbania il 48esimo campionato nazionale di corsa delle penne nere, partenza da Madonna di Campania. Domani la Paffoni sfida a Verbania la Green Basket Palermo, in vendita offerta ai cannoli della solidarietà con Domus Sicula. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, in apertura di giornale La Cronaca, ancora un'officina abusiva scoperta nel Verbano, stavolta è successo in centro città. Sentiamo cosa hanno scoperto gli agenti della Polstrada. Un'officina di autoriparazioni e carrozzeria abusiva nel centro di Intra l'ha scoperta la Polizia Stradale nell'ambito dei controlli contro l'abusivismo nel settore commercio, riparazione e veicoli. Durante il sopralluogo sono state sottoposte a sequestro diverse attrezzature, tra le quali un ponte da lavoro utilizzate per eseguire le riparazioni. È stata inoltre rilevata una gestione completamente irregolare dei rifiuti pericolosi. L'officina abusiva era gestita da un cinquantenne del posto incensurato, proprietario di una regolare impresa individuale di commercio d'auto. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la violazione della normativa ambientale. Infatti, nella zona adiacente l'officina è stato rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere. Scarti della sua attività, tra i quali olio esausto, filtri d'olio usati, pneumatici, parti di veicoli in plastica e vari rottami ferrosi, oltre a sacchi contenente carta sporca di vernice e dischi abrasivi. Sul posto c'erano anche vari veicoli in attesa di riparazione, alcuni dei quali parzialmente incidentati. L'uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per la violazione della legge che disciplina l'attività di autoriparazione per la sicurezza della circolazione stradale. L'attività abusiva è stata ovviamente chiusa. Furto di computer alle scuole di Nebbiuno 11 computer sono stati asportati nella notte tra martedì e mercoledì scorsi dall'aula di informatica delle scuole elementari di Nebbiuno. A fare la scoperta, mercoledì mattina, è stato il personale delle scuole, le insegnanti. I ladri sono entrati dal retro, hanno alzato una tapparella e poi forzato, con arnesi da scasso, una porta finestra d'ingresso. Nessuno ha visto nulla, in quanto il seramento della strada non è visibile. Tra l'altro non vi sarebbero telecamere di sicurezza e nemmeno sistemi di allarme per cui difficile diventa ora risalire agli autori del furto. L'edificio scolastico si trova in via Risorgimento, al numero 1, la strada che dal centro paese porta verso la frazione di Corciago. È piuttosto isolato rispetto alle villette e alle attività vicine. Molto adilata è Elis Pia Terra, sindaco del comune del Vergante. Non abbiamo idea chi possa essere l'autore, dice. Può darsi individui già conosciuti dalle forze dell'ordine. Li potranno rivendere sul mercato dei ricettatori, ma per poche decine di euro ciascuno. Sono stati tempestivamente avvisati gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Arona. Questi ultimi stanno lavorando su elementi precisi, utili a risalire gli autori del furto. I sospetti vanno nella direzione di soggetti già conosciuti per atti di microcriminalità e furti. Certamente le persone che hanno commesso il furto erano a conoscenza dell'edificio di preziosi contenuti delle aule. Sotto certi aspetti potrebbe apparire come un furto su commissione. Sicuramente i computer saranno messi sul mercato dei ricettatori in località ben lontane dal Vergante. È un verbanese di 32 anni, Giovanni Maltese, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto martedì in Svizzera tedesca nel cantone Arcovia. L'uomo da tempo si era trasferito all'estero per lavorare. I familiari hanno già raggiunto il luogo della tragedia per il riconoscimento della salma. Nei prossimi giorni avverrà il rimpatrio e così potranno essere fissati i funerali. Mi sembra che Maltese sia stato ucciso dal carico che si è staccato da una gru. Vi ricorderete l'operazione antidroga denominata Pepe Amaro. In questi giorni alcuni imputati hanno definito la loro posizione davanti alla giustizia. Prime sentenze per l'operazione antidroga Pepe Amaro della squadra mobile della Questura. L'altro giorno davanti al GUP si sono definite le posizioni di buona parte degli imputati. L'indagine si era conclusa lo scorso febbraio e riguardava un giro di spaccio intorno a un bar di Pallanza a Verbagna. Il Pepe Nero oggi chiuso. Le ordinanze di custodia cautelare erano 26 alle quali si aggiungevano anche indagati a piede libero. 11 sono stati patteggiamenti in accordo con il PM Gianluca Periani con pene da 3 mesi a 2 anni per un totale di 10 anni e mezzo di carcere. Un imputato ha scelto il rito abbreviato ed è stato condannato a 6 mesi. 4 le persone che hanno invece optato per il dibattimento con udienza già fissata per il 15 gennaio davanti al giudice monocratico. Per 5 imputati il reato di spaccio è stato riqualificato per lieve entità e quindi potranno ottenere la messa alla proda. Altri procedimenti invece sono stati trasferiti a Novara per competenza territoriale. Alcune ordinanze di custodia cautelare sono ancora in vigore. L'indagine era nata dalla situazione di allarme sociale che si era creato per la presenza dei pusher proprio nel centro di Pallanza tra la posta, la fermata dei bus e l'asilo. Ed ora torniamo sui canoni idrici. Alle parole dell'assessore regionale Rosso risponde l'ex vicepresidente Reschigna. Il numero 2 del governo Chiamparino smorza gli entusiasmi del centro-destra. Adoreschigna però vuole mettere i puntini su lei a queste affermazioni. Mi dispiace dover intervenire per precisare alcuni elementi ma la mancanza di stile esercitata e applicata ieri dall'assessore Rosso e anche da un comunicato stampa del presidente Preioni mi inducono a fare alcune precisazioni. Questa giunta regionale sui 9 milioni non ha fatto nulla. Questi 9 milioni sono frutti dell'accordo fatto dalla giunta Chiamparino con la provincia nel momento in cui la provincia stava rischiando il dissesto provocando danni irreparabili al sistema economico del VCO che era creditore nei confronti della provincia. Noi non abbiamo fatto solamente la transazione, abbiamo accantonato i 9 milioni di euro nel rendiconto del 2018 e una volta approvato il rendiconto dalla Corte dei Conti e dal Consiglio regionale questi soldi diventavano disponibili. Quindi l'atto che ha fatto ieri la giunta regionale, in questi giorni la giunta regionale, non è un atto che ha recuperato 9 milioni di euro. Ha semplicemente compiuto l'ultimo passaggio meramente formale e burocratico di una scelta di cui non può appropriarsene perché bene o male questa scelta è stata frutto di un accordo tra la giunta Chiamparino e la provincia del Verbano Cusiossola. Ora, la cosa poi che vorrei aggiungere è un'altra. In questi giorni la giunta regionale ha presentato il disegno di legge di assestamento del bilancio del 2019. Non vedo un euro in più rispetto ai 4 milioni di euro che storicamente noi abbiamo messo a favore della provincia del Verbano Cusiossola. Forse anche per questo la provincia non ha fatto comunicati, non ha cavalcato la dichiarazione di Rosso e di Cirio? Alla provincia credo che abbia avuto preoccupazione nelle giorni scorsi quando l'assessore al bilancio aveva annunciato che intendeva chiedere una proroga del 5 novembre che era la data ultima per il pagamento dei 9 milioni di euro, con il rischio che il piano di risanamento e il piano di pagamento nei confronti delle imprese slittasse con danni ulteriori al sistema economico del Verbano Cusiossola. Poi non dico che sono dovuto intervenire per far capire alla giunta regionale che non c'era bisogno di una norma di legge ma era sufficiente una delibera, perché questo credo appartenga alla necessità che ciascuno di noi ha di dover operare perché i problemi che riguardano questa provincia vengano portati a soluzione. Certo, io ho apprezzato la correttezza della provincia del Verbano Cusiossola. Sull'argomento si registra anche il commento dei consiglieri grillini di Domo e Verbagna. I canoni idrici, dicono Corsini, Ragazzini e Campana, devono essere considerati un successo politico anche nostro, ma soprattutto una boccata d'ossigeno per la nostra provincia. Per amore della verità dobbiamo però rammentare che già nella passata legislatura il Movimento 5 Stelle regionale aveva sollecitato e chiesto alla giunta Chiamparino questo riconoscimento. Ora la speranza è che si arrivi a una legge che possa garantire automaticamente questi fondi senza farli passare come elargizione di qualche forza politica. Ha creato parecchi problemi al traffico l'incidente stradale successo attorno alle 15 e 30 di questo pomeriggio lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Verbagna. E' successo nei pressi del Teatro Maggiore. Coinvolte diverse vetture, sul posto si sono create code per soccorrere i feriti, è arrivata un'ambulanza. Della Croce Rossa, a bilancio del sinistro, sono stati tre feriti, un codice giallo e due codici verdi. Per i rilievi del caso e per regolare il traffico è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale. E nuovo parcheggio per la frazione Verta a Omegna. Sono cominciati a Verta i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio che avrà una decina di posti auto. Una risposta anche alle polemiche che ci sono state nel corso degli ultimi mesi. Sì, giustamente come hai detto, la realizzazione di questo parcheggio è stata studiata quando c'era ancora il consiglio di quartiere di Verta Brughiere. È un parcheggio con un po' meno posti, dovrebbe essere intorno ai sette. Noi intendiamo farne sei parcheggi bianchi più un parcheggio per i disabili. Quindi, ripeto, giustamente come hai detto a te, è una risposta perché noi stiamo portando avanti dei lavori concreti, stiamo realizzando dei progetti. Ovviamente non sono stati realizzati in breve tempo, però li stiamo realizzando in accordo anche col quartiere quando, ripeto, c'era ancora. Poi ci saranno anche interventi per la sistemazione idrogeologica, grazie di Fondiato. No, grazie di Fondiato. Abbiamo fatto degli interventi sul rio Bertogna, abbiamo investito lì 25 mila euro di questi fondi per il taglio della vegetazione e la sistemazione del disalvio. Altri interventi sulle brughiere e la Verta abbiamo portato avanti nel 2018, che erano quelli di avere asfaltato il ponte sullo Strona, in cui abbiamo anche cambiato dei giunti dilatatori. L'altra cosa che dovremmo verificare con il futuro quartiere, quando verranno rifatti questi quartieri, è quello di verificare come donare i 100 mila euro a questo quartiere, perché l'intenzione fino adesso era quella di realizzare una rotonda sotto la galleria, però visto la modifica che avevo fatto fare l'anno scorso della segnaletica, sembra che questa segnaletica funziona molto bene, perciò mettiamo un attimo in stand by questo progetto, soprattutto in vista di una riapertura di questa galleria. Notizie per gli studenti dei comuni di Montagna ha risolto il problema della copertura finanziaria del servizio di scuola. Far rimbalzare da Roma l'UICIO alla notizia è stato Enrico Borghi, il parlamentare ossolano, assieme alla collega Deborah Serracchiani, nei mesi passati aveva presentato un DDL sull'argomento. E si parla di scuola questa settimana nel Sassonello Staglio, la trasmissione non dà stasera alle 21, e ancora sabato alle 17 e domenica alle 14. Da poco più di un mese è iniziato il nuovo anno scolastico. Noi proprio di scuola parleremo nella puntata di questa settimana del Sasso nello Staglio, con un titolo particolare, La scuola, la nostra speranza. Il titolo l'abbiamo preso dal messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lanciato in occasione appunto del nuovo anno scolastico, quando ha detto la scuola è una speranza sempre e ovunque. E cercheremo di capire come sia la speranza scolastica nel Verbano Cusiossola. Lo faremo facendoci aiutare dalla dottoressa Maria Cecilia Micheletti, che dall'aprile scorso dirige l'ufficio scolastico del VCO, è in sostanza la provveditora agli studi. Appuntamento quindi a fra poco con il Sasso nello Staglio. Casale Cortecciaro, l'inaugurazione della sede dell'Associazione Promozioni Anziani è motivo di scontro politico. Sabato scorso Casale ha vissuto un momento importante con l'inaugurazione della nuova sede della promozione dell'anziano all'interno delle case ATC di Ramate. Alla cerimonia mancava la minoranza, che ha motivato la propria assenza attraverso un comunicato stampa. Vogliamo ringraziare pubblicamente l'APA per tutto quello che ha fatto in questi anni a favore dei casalesi bisognosi di assistenza. Ma la nostra contrarietà alla nuova sede è dovuta alla sua posizione, difficile da raggiungere a piedi. Per questo abbiamo già chiesto all'amministrazione Pizzi di istituire una navetta. Le perplessità dell'attuale minoranza si ricollegano a quelle avute dalla loro minoranza nel 2004 per la costruzione degli alloggi in convenzione con ATC Novara VCO. Non è mai stato digerito il fatto che l'assegnazione degli alloggi non preveda un canale preferenziale per i residenti casalesi, tanto che la minoranza aveva proposto al Comune di accollarsi direttamente le spese della costruzione delle case, da destinare però solo a casalesi indigenti. Il terreno, sottolineano gli attuali consiglieri di opposizione, era un lascito a favore dell'APA, che lo ha donato poi al Comune. Bastava forse vendere il terreno e, con il ricavato, costruire una sede più idonea per l'APA, in una posizione diversa e dotata di più servizi pubblici. Purtroppo, l'amministrazione Pizzi ha fatto una scelta diversa per vari motivi, sia economici che politici, e adesso, dopo 15 anni, ne vediamo i risultati. Nonostante tutto, ci auguriamo che questa sede, con i dovuti accorgimenti, sia presto a disposizione dei cittadini casalesi e possa offrire agli stessi un punto di ritrovo molto importante per la loro vita sociale. È in programma per le 18 di domani pomeriggio l'inaugurazione del centro polispecialistico dell'Auser, il centro posizionato al pian terreno, del centro culturale, la fabbrica a Villa D'Osso, la mira a dare risposte mediche a persone in difficoltà. Vi si potrà accedere solo attraverso specifica prescrizione del medico curante o tramite il CIS. Parliamo delle parole che curano gli incontri pubblici con gli specialisti promossi da Istituto Oxologico Italiano. Nei giorni scorsi a Verbania si è parlato di come leggere le etichette degli alimenti. Tanta gente nei giorni scorsi nell'auditorium di Villa Caramora a Verbania per Sai Cosa Mangi, incontro pubblico nell'ambito delle parole che curano promosso da Istituto Oxologico Italiano, sottolineata l'importanza di saper leggere le etichette degli alimenti. La corretta informazione, quindi l'utilizzo di risorse culturali che sollevino un po' la coltre di nubi che c'è su questi argomenti, può essere uno strumento di validata efficacia per arrivare a una cultura in questo ambito di misinformazione globalizzata, chiamiamola così. Ci sono delle regole base per leggere le etichette? Regole base è un po' difficile perché le etichette si leggono in maniera molto personale. Possiamo dire che la prima regola è sicuramente chiedersi che cosa ci serve, farsi delle domande su quelli che sono i nostri bisogni e poi l'etichetta, che è la carta di identità del prodotto che compriamo, ci serve per andare a sapere e trovare l'informazione che risponderà alla nostra domanda. tendenzialmente le parti che ritengo più importanti sono appunto la denominazione di vendita, che è questa categoria merceologica a cui il prodotto appartiene e che ci dà delle informazioni molto importanti sulla qualità del prodotto, l'elenco degli ingredienti perché ci dice chiaramente che cosa il produttore ha messo dentro e di solito vale la regola del meno ingredienti ci sono, più abbiamo probabilità che il prodotto sia di qualità e poi la tabella nutrizionale. Come dobbiamo leggere la tabella nutrizionale? La tabella nutrizionale è questo strumento utilissimo che però dobbiamo imparare a usare per confrontare prodotti analoghi e insieme, quindi non si legge semplicemente una tabella per volta ma si prendono due confezioni, si avvicinano e si confrontano i prodotti per cercare di capire quale dei due è più adatto a quelle che possono essere le mie esigenze nutrizionali. Cambio di location per questione di spazi, cresce il pubblico delle parole che curano e partita una nuova stagione. Si consolida questa iniziativa che stiamo portando avanti da un paio d'anni in Villa Caramora che abbiamo chiamato le parole che curano perché pensiamo appunto che le parole abbiano un ruolo anche nella cura e il tempo da dedicare alle persone per ascoltare le loro domande, rispondere come questa sera i falsi miti per esempio sull'alimentazione e incontrarsi per discutere i temi della salute. Da domani fino al 23 di ottobre Omegna celebra Rodari con l'annuale Festival di Letteratura per Ragazzi quest'anno con qualche novità. Festival Rodari, chiamiamolo sempre così anche se la definizione giusta sarebbe Festival di Letteratura per Ragazzi Gianni Rodari dal 12 al 24 ottobre, sesta edizione con tantissime novità. La prima cosa da sottolineare è che sta diventando, sta crescendo proprio in vista di Rodari 2020 quando poi sarà l'apogeo di Omenia Rodariana. Quindi gli eventi nuovi, il festival sarà dal 12 al 23 ottobre e gli eventi nuovi sono la partenza perché quest'anno inizieremo con un grande ballo che un po' ricorda, per gli omeniesi ricorda i balli storici che c'erano alla discoteca Perla negli anni 70 ma l'abbiamo fatto seguendo il carattere si intitolerà in una favola ed è appunto un momento in cui personaggi Disney insieme alle scuole e alle associazioni omeniesi si ballerà, si inizierà a entrare in questo spirito della favola della creatività e poi tutti i bambini sono invitati a venire con vestiti dal loro eroe preferito e posso anticipare che ci saremo anche io il sindaco in maschera quindi potrebbe già essere quello anche una ragione per venire al ballo. ma seguirà poi tutta una serie di eventi che chiaramente sono incentrati sugli autori perché è un festival di letteratura quindi avremo innanzitutto la giuria i nostri giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi con scrittori in erba che presenteranno il vincitore dal loro punto di vista e poi ci sarà il premio invece della giuria del premio letterario che posso anche anticiparlo anzi lo faccio anche vedere Chen Yang Ong Il piccolo pescatore e lo scheletro che è un libro illustrato e per quanto riguarda invece i libri di narrativa Il posto segreto di Susanna Mattiangeli e Felicitasala che sono i due vincitori che poi comunque saranno presenti da noi avranno modo di interagire con il pubblico Altri eventi importanti vabbè ci sarà la torta perché questo è sempre un momento importante e vorrei sottolineare il corso di formazione perché questo è una perla di quello che sta avvenendo in preparazione di Eurodale 2020 Omeni ha creato un corso di formazione per insegnanti e quest'anno durante il festival si terrà a Verbagna Siamo all'appuntamento con i sapori dell'Alto Piemonte sentiamo quale ricetta ci propone lo chef del ristorante La Beola del Grand Hotel Majestic di Verbagna Ben trovati sono Danilo Bortolin lo chef del ristorante La Beola del Grand Hotel Majestic di Pallanza oggi vi presentiamo le ciliegie al vino rosso congelate al fior di latte di capra e la fugacina Gli ingredienti per la ricetta sono dello zucchero pectinato quindi con aggiunta di pectina quello classico per fare le marmellate del vino rosso ossolano in questo caso un prunente degli aromi classici per il vin brulee cannella anice stellato chiodi di garofano e scorze di aranci e di limone delle ciliegie grosse e snocciolate una fugacina in questo caso di mergozzo quindi questo biscotto tipico un po' sbricciolato dei germogli e dei fiori iniziamo subito con la realizzazione del vin brulee quindi andiamo a mettere il nostro vino rosso in una pentolina e iniziamo a farlo bollire andiamo ad aggiungere dello zucchero pectinato che ci servirà ad avere una consistenza più sciropposa al nostro vin brulee e poi andiamo ad aggiungere gli aromi classici portiamo tutto a bollore e lasciamo restringere un pochettino questa può sembrare una ricetta tipicamente invernale ma viene contestualizzata in una preparazione adatta all'estate raggiunto una consistenza un po' sciropposa andiamo ad aggiungere le ciliegie già senza nocciolo e le lasciamo cuocere pochissimo giusto 30 secondi di cottura e le ritiriamo dal fuoco andremo a servirle leggermente tiepide con la nostra fugacina sbricciolata andiamo a posizionarla come se fosse una cornice intorno al piatto sarà la nostra parte croccante ci aiutiamo per fare questo con un anello in modo da avere un bel centro tondo andiamo a prendere le nostre ciliegie e le posizioniamo all'interno del piatto un bel cucchiaio dello sciroppo andiamo a finire con il nostro gelato in questo caso abbiamo voluto usare un latte di capra per avere un gelato un po' più particolare un po' più a sprigno va benissimo anche un fior di latte adatto anche a un variegato alla marena che richiama il frutto del dolce e andiamo a finire con qualche germoglio le nostre ciliegie al vino rosso congelato al fior di latte di capra e fugacina è pronto Penne nere in festa a Verbagna per il 48esimo campionato nazionale di corsa in montagna individuale domenica Verbagna ospita il 48esimo campionato ANA di corsa in montagna individuale ad organizzarlo è la sezione di intra due i percorsi differenti a seconda della categoria uno 11,5 km e 610 m di dislivello il secondo quello ridotto 8 km e 350 m di dislivello la partenza per tutti è dalla chiesa di Madonna di Campania sabato alle 14 l'apertura dell'ufficio gare seguirà l'ammassamento degli atleti in largo tonoli alle 16.45 la sfilata con la fanfara alpine e l'alza bandiera al monumento ai caduti di pallanza domenica giornata di gare alle 9 partenza degli atleti percorso ridotto alle 10 invece il percorso completo sono onorato di poter ospitare questa manifestazione di livello nazionale per la prima volta nella nostra sezione è stato il commento del presidente delle penne nere di intra Gian Piero Maggioni tutti gli atleti che prenderanno parte alla gara ha detto potranno cimentarsi su un percorso panoramico con vista su Lago Maggiore e sul Golfo Borromeo l'evento si inserisce nel centenario di fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini e nel 99esimo anno di vita della sezione intra Ed ora il basket domani la Paffoni sfida a Verbagna la Green Basket Palermo in vendita offerta ai cannoli della solidarietà con la collaborazione di Domus Sicula il ricavato ad un bambino autistico per il progetto di Pet Therapy Torna alla Palla Battisti la Paffoni in una serata davvero speciale per mille motivi la Fulgor domani alle 21 affronterà la Green Basket Palermo che dopo aver riposato alla prima ha perso a Firenze sabato scorso al termine di una ottima partita giocata dai ragazzi dell'ex coach di Empoli Bassi vogliamo continuare la striscia vincente di inizio stagione abbiamo due partite in casa le parole di Jacopo Balanzoni e vogliamo e possiamo fare due su due con Palermo e Borgo Sesia nell'infrasettimanale il morale è alto anche perché quando vinci è tutto più semplice Palermo è una buona squadra che va affrontata con il giusto spirito e noi non la sottovaluteremo come detto saranno diversi gli eventi collaterali previsti domani sera per la prima volta nella sua storia la Fugo giocherà contro Palermo e per celebrare e salutare degnamente la società siciliana sono stati organizzati alcuni appuntamenti l'associazione Domus Sicula del VCO prima del match consegnerà una targa in segno di amicizia agli ospiti e dall'ingresso ci saranno i cannoli della solidarietà il ricavato delle vendite andranno a favore di Giacomo bambino autistico per il progetto di Petterapi a scuola che lo coinvolge direttamente presente alla partita dagli studenti dell'ENAIP di Omenia e dalla chiesa Spinelli oltre a ragazzi tecnici e genitori del Gravellona San Pietro sempre per la palacanestro in serie B2 derby piemontese per la Mami attesa dalla sfida del Pala 958 ad Alba contro i ragazzi di Cocci Iacomuzzi Siamo in chiusura per gli aggiornamenti www.vcoazzuratv.it grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi